bentornati ragazzi anno nuovo contenuti nuovi oggi ci spostiamo nella sezione laser diodo laser co2 andiamo a vedere light burn andrò a vedere appunto come si fa per scaricarlo vi spiegherò appunto come funziona come appunto primo utilizzo andremo a vedere anche poi a pc e la versione appunto a pagamento sia per il diodo che per il co2 perché comunque sono due versioni differenti con prezzi differenti qualcuno magari si chiederà perché non parliamo di laser cioè di laser grbl punto quindi versioni free di software ma perché personalmente li ho provati entrambi mi trovo molto bene con light burn e voglio consigliare a chi si approccia al mondo laser un software che non lo faccia troppo faticare nel realizzare i vostri progetti perché secondo me è utile fare video che vi insegnano vi fanno vi aiutano e vi consigliano appunto cose che non sono troppo difficili per poi ottenere il vostro progetto finale perché siete qua appunto perché avete una passione questa passione magari può essere anche un mezzo lavoro un lavoro completo bisogna che abbiate per mano software e macchinari giusti per ottenere quello che dovete fare il tempo con i laser ce ne vuole un bel po perché se partiamo da un file da zero già la creazione porta via un sacco di tempo la messa in opera e il risultato finale ne porta via altrettanto quindi avere tra le mani ok una buona macchina ma anche un buon software sicuramente vi agevole nel risultato finale quindi il risparmio di tempo e risparmio anche di denaro e di materiale perché se poi i settaggi del software non sono così semplici da capire e però vi fanno buttare via un sacco di materiale secondo me poi non ne vale la pena quindi il consiglio è light burn anche se è un appunto un software a pagamento ma vedrete che se siete nel mondo laser i piccoli lavoretti che andrete a creare con light burn saranno poi la paga per ripagarvi appunto l'investimento della licenza bene ragazzi una volta portati su light burn software.com non vi resta altro che selezionare trial andare appunto a selezionare la vostra versione software e andare a scaricare la versione di 30 giorni gratuita finita la versione gratuita in cui potrete tranquillamente usarlo e valutare l'acquisto sarete obbligati per continuare a usarlo appunto andare in online store e acquistare con buy light burn la vostra licenza licenza annuale per la sezione g call per quello che sono i laser diodo e la versione dsp per esempio i ruida attenzione per annuale non spaventatevi non dovrete ogni anno staccare 108 euro 54 euro ma sarà praticamente solo per quella volta poi dopo eventualmente se non vi interesseranno i successivi aggiornamenti potrete stare tranquillamente fermi col primo acquisto e continuare a utilizzare light burn all'ultima versione a cui avete potuto avere accesso per scaricarla appunto e quindi nessuna paura pagherete una volta sola solo successivamente se un aggiornamento sarà veramente così figo e stratosferico potrete valutare di ricomprare per un altro anno la licenza e sfruttare l'aggiornamento se avete intenzione di passare da diodo a co2 a breve vi consiglio la versione già dsp in modo che non dovrete fare un upgrade ma che vedete che comunque il prezzo è sempre lo stesso è qualcosina di più però insomma si può fare anche così io mi spese ho fatto così perché sono partito a settembre con un diodo e mi sono trovato ad agosto con un co2 anche con un co2 quindi ho dovuto fare l'upgrade detto questo andiamo a vedere subito all'agbord andiamo a cercare di capire un po come funziona io sarò abbastanza veloce magari vi faccio vedere qualcosa in velocità ma poi magari poi ve lo studiate bene bene a casa e guardate il video anche più volte se non vi è se vi è sfuggito qualcosa mi preme farvi vedere un po come è impostato avete le cartelle quindi queste tab di laser e di taglio livelli che sono le più importanti anche esposta è per la gestione del punto del movimento del laser e qui in laser appunto periferiche vi servirà per installare la prima volta il nostro laser collegandolo usb poi dovrete dirgli trovarlo o di crearlo manualmente in base a quello che sono le informazioni che avete della vostra scheda se è un orto per dire avrete un grbl se avete uno star maker maker se avete un co2 magari della voyeur è un ruida o comunque dopo vedete che in base alla vostra scheda dovrete poi selezionare quello giusto negli step successivi vi chiederà l'area di rinominare se volete il nome appunto del laser la posizione di partenza e se collegato via usb quindi è una procedura molto molto semplice guidata quindi vedrete che vi troverete praticamente abili ad avere importato subito il vostro laser qui e selezionabile poi eventualmente se poi ne avete uno o più di uno saranno tutti presenti qua tralascio la parte art library e libreria perché farò un video dedicato a parte ovviamente in finestra ci sono tutte quelle attivate e quelle possibilmente da attivare quindi anche qua è molto personalizzabile e vedete che poi in alto si c'è sia strumenti che organizza che prendete sono quelle le finestre che poi va racchiudono tutto quello che vedete in questa taba sinistra in questa taba in alto proprio in alto nella faccia superiore e insomma sono quelle visibili sono quelle più usate vedo vedo io che per quel poco che comunque l'ho utilizzato ho trovato molto comodo avercele già qua in prima in prima vista poi ovviamente tutte sono personalizzabili quindi vedrete voi poi dopo come utilizzarlo dicevo di partire a fare un piccolo un piccolo programmino c'è un piccolo lavoretto tanto per farvi vedere appunto che si può partire da zero il file li potete trovare mi ricordo che nella sezione discord legata ai laser o comunque idxf abbiamo messo i vari link a siti o qualche file già quindi ma comunque online è pieno di file già pronti da poter laserare e quindi cominciamo a fare un piccolo progetto come per fusio star 60 vi farò vedere come creare un piccolo portachiavi magari andrà veloce sì però sono funzioni molto semplici e molto rapide quindi cosa dobbiamo fare andremo a fare un nostro portachiavi con il nostro logo 3d world e quindi dovrò selezionare il tool di test di testo mi posizionerò al centro poi andrò a posizionarlo solo successivamente a fine lavoro no per poi in base a dove avete messo il materiale quant'altro vado a scrivere 3d world e vedete che qua in alto si è attivato tutto quello che riguarda la impostazione del testo volendo si può andare a vedere in anteprima quello che sarà il risultato finale del nostro testo che andremo ad applicare quindi veramente comodo perché vi fa cambiare in automatico tutto quello che è il testo e vi dà già una preview ed è fantastico perché non dovrete stare seleziono questo poi lo guardo poi vado a selezionare insomma in anteprima un anteprima che vi fa anche qui a risparmiare un sacco di tempo volevo trovarne uno abbastanza semplice l'avevo trovato ma probabilmente assomi è mi è sfuggito direi che va questo semplice questo qui ok dai po strambo però va bene ok detto questo selezioniamo la freccetta ci abbandoniamo punto al testo e vedete che adesso io ho una volta selezionato anche solo una linea me la seleziona tutto perché adesso è tutto unito ogni lettera è un corpo solo vedete che qui si è automaticamente in taglio i livelli attivato il primo mio livello dove ho le caratteristiche che poi farà il laser ovvero a che velocità alla potenza massima la potenza minima l'intervallo tra una linea e l'altra e quanti passaggi dovrà fare oltre al colore di livello quindi questo primo livello è basato appunto sullo 0 0 quindi è nero io per fare un portachiavi adesso dovrò sicuramente dargli indicazioni al primo layer che sia questo non una linea perché mi taglierebbe o mi farebbe solo una linea ma un rientimento quindi linea vedete lo faccio vedere e questo è il simbolo dell'anteprima mi farebbe solo quello che poi è il testo che vedete anche lì ma non mi serve perché uno devo poi esportarlo dal pezzo di legno che andrò fare e due voglio che ci sia un po di un po di di più di colore no quindi per dare il colore devo aumentare l'incisione e riempimento cosa fa mi va a tracciare sì tutto il mio testo ma me lo va a riempire in modo che io posso avere un'incisione scura detto questo bene io gli devo dire però che ci deve essere del materiale da tirare via non posso tirare via però lettera per lettera anche perché altrimenti si avrei il mio bel 3d word ma separato se voglio fare un portachiavi deve essere tutto unito quindi cosa vado a fare vado a dirgli di dargli un offset con questo specie di cerchio che trovate sotto il righello l'offset vi darà la distanza dell'offset vedete che se diminuiamo si avvicina avrete la possibilità di fare verso l'esterno verso l'interno o entrambi dopo poi dovrete vedere voi qual è la migliore io lascio verso l'esterno e gli do un 3 che così mi dà un po di spazio bene detto questo facciamo ok eliminare gli oggetti originali non mi interessa perché voglio che rimangano però potrete magari in un successivo progetto andare a far rimanere solo quello che è l'offset e non quello che è il soggetto di partenza gli dico ok in questo caso cosa ha fatto mi ha creato questo piccolissimo pezzettino perché ha valutato che in quel triangolo ci volesse un offset del genere lasciarlo potrei anche lasciarlo ma potrebbe fare brutto anche perché poi lì sarebbe parte di una linea di taglio perché io in questo modo ho creato una linea di taglio quindi innanzitutto non deve essere uguale al riempimento perché se vedete mi andrebbe fare anche questo bellissimo effetto ma non è quello che voglio fare ecco questo potremmo venire buono se dovessimo andare fare un incisione ma siccome voglio fare un taglio deve essere distinto dal riempimento di modo che io gli vado a dire adesso guarda che questa linea questo offset deve essere di colore rosso deve essere fatto per secondo vedete che è in ordine crescente quindi il primo verrà fatto per primo e via dicendo e però voglio cancellare questo qui adesso non riesco a selezionarlo cosa fare cosa devo fare per selezionare solo questo il contrasto destro lo separo vedete che adesso posso tranquillamente selezionare solo questo e andarlo a eliminare col cestino bene bene in questo modo avrò solo esclusivamente quello che mi interessa non avrò altro che quindi andare in anteprima vedete che non ho altri pezzettini e robe anche qui la linea andrà gestita diversamente vedete che già il rosso vi aiuta come impostazione di taglio perché comunque ogni colore ha una sua impostazione l'hanno data loro diciamo a spanne però il rosso solitamente ha la funzione di taglio infatti è linea e vedete che il laser va molto piano detto questo cosa devo fare voglio fare un foro aggiuntivo per far passare quello che è il portachiavi quindi voglio andare a fare un cerchio seleziono il mio cerchio che lo vado a disegnare ok lo posiziono qua ovviamente poi viene selezionato solo lui viene post potete spostarlo ingrandirlo potete ingrandire anche tutto il progetto insomma l'importante è selezionare sempre quello che volete andare a spostare o modificare voglio però che questo qui sia fatto per terzo e abbia magari sì le stesse caratteristiche del 2 ma non voglio che venga fatto per secondo e quindi gli do il 3 gli do il 3 anzi gli do l'1 ok e poi ovviamente gli dico un'altra selezionato quindi vede che in grigio gli dico di andare su qua a destra di modo che adesso avremo 0 1 e 2 e fatto in sequenza se andiamo a vedere in anteprima vedete che con questo tasto me la fa vedere tutta vedete che lui comincia il riempimento ok quindi sarà un incisione e poi successivamente parte con quello che è il blu del cerchio finito quello parte e fa il taglio completo eccoci qua praticamente adesso abbiamo la possibilità poter essere pronti ad andare a laserare ovviamente la parte di realizzo è fatta in parametri se vi piacciono li lasciate così comunque andate a modificare qua quello che sono i parametri giusti per il vostro per dire pioppo 4 mm sapete che dovete mettere quelle velocità e quella potenza mettete tutto a posto e poi andate a vedere con frame la posizione del di dov'è in base al piatto quindi andate a centrarlo eventualmente per dove avere dove avete messo il legno se avete un pezzo di legno grande come la vostra dare un incisione non vi importa dove andare a laserare pace ma se invece avete un pezzo piccolino con frame sia rettangolo che cerchio vi fa vi farà muovere il laser quindi attenzione quando fate frame lasciate campo libero al laser andrà a fare quello che è la simulazione di dove è l'area totale di incisione quindi consiglio mio è fare frame cercare un attimino di andare a posizionarlo il meglio possibile con il laser diodo potete tranquillamente attivare abbassando la potenza e attivare la luce in modo che da vedere effettivamente sia il frame dove lo fa che eventualmente una simulazione di tutto il pezzo lasciando basso i valori con laser co2 invece c'è già il mirino rosso dovrebbe esserci già l'infrared rosso che vi fa appunto la simulazione di dove di dove andrà incidere e poi siete pronti a fare avvia niente di più ragazzi questo è avete visto che praticamente poche funzioni ma saremo già in grado di fare il nostro piccolo porta chiave che alla fine risulterà inciso per quanto riguarda il testo e sagomato invece per per il resto non non vado oltre ho cercato di essere abbastanza diciamo sbrigativo ma comunque di funzioni ce ne sono parecchie non voglio bruciarmi tutte le puntate di light burn voglio che picchiate sopra al pollicione voglio che mi sproniate a fare altri video quindi mettete mi piace se vi è piaciuto se vi interessa l'argomento in commenti chiedete quello che volete vedere o che comunque vi piacerà appunto sapere di questo software sappiate che è già quasi pronto un altro approfondimento per le librerie quindi quello lì e sarà il prossimo argomento poi eventualmente andremo a trattare altre funzioni di questo a mio avviso bellissimo software che dire ragazzi seguite il nostro canale mettete mi piace attivate la campanellina vi aspetto su discord insomma alla fine siamo qui per per continuare a portare avanti i nostri hobby io vi saluto e ci vediamo alla prossima ragazzi grazie ciao